perma 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 buonasera marescia buonasera allora volete i documenti un attimo sicuramente potrete uscire dalla macchina allora marescia so di regola eh se è regola però oltre a passare il limite di velocità devo fare l'amore non mi faccio andare non mi faccio andare non mi faccio andare ma non mi faccio andare faccio una cosa ti faccio una domanda se rispondi a questa domanda ti faccio andare senza farvi l'amore allora vedi non fare l'ontananza che cosa vedi? di notte non può fare marescia questa domanda non può fare l'ontananza di notte troppo fare e che cos'è? namut troppo generico può essere un'onda può essere una yamaha può essere un armiderio ma non c'è marescia è namut marescia 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 ketten non ha marescia 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 può essere un merceden Fabio, maresciato. Ma vuoi fare una domanda? Sì. Ti posso fare una domanda? Vabbè, perché questa domanda? La domanda. Ma dove ti posso fare io? Fabio, questa domanda. Allora, stai camminando di notte su una strada, no? Sì. All'ultimo, vedi un pocherello per là, ci sono delle signore là. Sì. Chi sono? Che sono? Secondo voi? Sono funtari! E no, maresciato. Perché? È troppo generico! Perché? Poi adesso ha buttato davanti, ha buttato da sorda, o ha buttato da sorda!